Pietro Panariello, responsabile della SPI-CGL, il sindacato dei pensionati. In questi giorni molte lamentele e molti disagi per gli over 80 che devono fare la campagna vaccinale. Che cosa sta succedendo? Io in questi giorni, oltre a fare le prenotazioni sulla piattaforma online per gli anziani, perché sprovvisti di telefonina, di computer, sto avendo lamentele per gli anziani oltre 80 anni perché dovrebbero andare a Gragnano per la vaccinazione. Il che è assurdo perché gli anziani o per patologia o perché non sanno come andare senza mezzi, senza familiari, stanno avendo difficoltà. Mi sono rivolto al distretto dell'ASL Napoli 3 e il direttore mi ha promesso e sta constatando che è la verità, che per gli oltre 80 anni li farà vaccinare nel locale della San Dessimitina di Attura da Greca e stamattina ho potuto constatare che si stanno già preparando. Dopo l'intervento del sindacato l'ASL sembra correre ai ripari. Nel giro di pochi giorni i locali della Santissima Trinità saranno attrezzati per la campagna vaccinale. Per quanto riguarda poi chi già ha ricevuto la comunicazione che dovrebbe andare a Gragnano, per questi purtroppo non possiamo farci niente, però se qualcuno rifiuta oppure non è potuto andare, il direttore del distretto farà di tutto per farle venire a Torre del Greco. Senza nulla togliere i centri vaccinali di Gragnano e Pollena, ma è giusto che una città come Torre del Greco abbia un suo centro vaccinale anche per gli over 80? Sì, è così. Per una città come Torre del Greco è giusto che ci sia questa struttura vaccinale. Voi come sindacato continuerete a vigilare che gli impegni assunti questa mattina vengano poi rispettati? Sì, senz'altro. Saremo vigili, tutti i giorni saremo vigili, controlleremo che tutto avvenga per bene e speriamo che ciò che ci hanno promesso sia vera. Luca Chius è il segretario cittadino della CGL. Dopo l'intervento del vostro sindacato, in particolare della SPI, CGL per la questione della campagna vaccinale per gli over 80, sembra che qualcosa si stia muovendo. Sì, voglio dire, alla fine è anche giusto. In realtà, quale Torre del Greco, che ha 18.000 anziani dai 65 anni ad andare avanti, penso che un problema c'è e deve emergere questa situazione. La nostra realtà, non so, ancora per l'ennesima morte, Torre del Greco, non viene vigliata neanche in considerazione rispetto a quelli che sono i problemi, i dati che ci stanno oggi rispetto, anzi, ai dati di ieri, che ci danno 166 casi positivi. Ci sono 102 morti, 103 morti. I dati sono preoccupanti e non ci sono controlli. Non ci sono controlli perché sostanzialmente avrebbero bisogno di un'assistenza non solo medica, ma anche di un'assistenza dell'Asla regionale da questo punto di vista. Io in molte occasioni mi trovo a dire ma perché Torre del Greco è così martoriata? Quale peccato ha fatto la nostra cittadinanza ad essere tartassata da tutte le questioni che riguardano non solo la sanità, ma l'immondizia, tutto quello che c'è sul territorio? Non ci meritiamo questo. Qual è il peso politico di Torre del Greco a livello regionale? Nelle parole di Luca Chiusel, segretario cittadino della CGL, l'amarezza di chi si è sempre mobilitato per affrontare e risolvere le vertenze del territorio, a cominciare dal caso dell'ospedale Marisca. Non ci meritiamo questo. Siamo dei cittadini veramente per bene e non ci meritiamo questo stato di situazione. Secondo lei di chi sono le responsabilità? Dell'amministrazione locale o anche a livello regionale? Torre del Greco non ha un peso politico che riesce a determinare alcune scelte sul territorio. Guarda la questione vaccinale, che sostanzialmente voglio dire dove c'è un'acqua, un'esigenza reale, avviare già un percorso dei vaccini. Torre del Greco non ha questo tipo di sito organizzativo. Sta tentando di aprire l'annunziata per fare cosa? Perché Torre del Greco ha 184 mila abitanti, quindi è un problema di razionalizzare i punti Covid. Ha l'esigenza di fare questo. Non c'è un piano organizzativo. Vuoi che la regione snobba Torre del Greco ha portato i piani vaccinali quando riguarda Polenatrocchio con tutto il rispetto, ha portato i piani vaccinali quando riguarda Gragnano. E su Torre del Greco non solo gli anziani si vedono abbandonati, ma c'è anche un pezzo che va da 65 anni ad andare avanti che viene abbandonato a se stesso. Il Comune dovrebbe fare più peso presso la regione Campania, ma un peso notevole e far valere la forza degli abitanti, far valere tanti tipi di situazioni. Io sono stato uno dei promotori insieme a te sulla questione dell'ospedale Maresca gli anni passati. Ne ho avuto tante di quelle critiche come se il mio atteggiamento fosse stato chissà quale e chi difendevo. Però posso dire che da allora che ho lasciato un pochettino questa situazione la cosa si sta aggravando. Ma tutto questo perché? Perché non c'è un peso politico comunale che riesce a far sì che Torre del Greco diventi realmente non solo un punto nevralgico sulla sanità. E allora il mio sollege... Ecco, il suo appello a chi va? Va all'amministrazione comunale innanzitutto perché è l'ente di riferimento. Oggi vediamo che fanno un'altra volta un consiglio comunale per deliberare la questione dell'ospedale Maresca dove noi abbiamo fatti non so quanti. Alla fine mi auguro, ma lo giuro con il cuore, che la mia Torre del Greco, la nostra Torre del Greco riesca ad avere quell'impulso e quella voglia di fare perché ha tante di quelle esperienze da mettere in campo. Abbiamo delle persone che sono veramente eccezionali, che però non riescono ad emergere a dare un grande punto. Allora io questo chiedo.